La mia esperienza parte da una constatazione. Il Signore dà la sua grazia secondo la natura di ciascuno. Perché mi domandavo perché alcuni sì e altri no. E quindi il Signore ha dato il suo progetto di misericordia e di salvezza alla capacità e ai tempi di ciascuna persona. Perché Lui è il primo a rispettare la libertà di ciascuno di noi. Nella mia vita ho sempre cercato di capire, di rendermi conto di ciò che accadeva e accade dentro e fuori di me. C'è sempre stata questa ricerca. Così un giorno, cercando un relatore per un incontro a livello internazionale, una suora mi suggerì il dottor Marco Guzzi. Chi era non lo sapevo. Ma mentre ascoltavo la sua conferenza, sentivo che ciò che diceva era proprio quello che cercavo. Così mi sono iscritta subito al corso. Era il 2001. Anno di grazia per me. Quindi eravamo all'inizio. Si sperimentava il metodo. Ma i frutti cominciavano a maturare ed erano buoni. Per me che ho scelto la vita religiosa è stato un supplemento a quanto vivevo. Perché uno si può domandare perché una suora va a fare questi corsi. Non ha forse già molto che le viene dato dalla comunità, dall'istituto, eccetera. E invece non è così. Lì ho trovato qualcosa che mi mancava. Quindi partecipare a questi incontri mi ha aperto alla comprensione più profonda e più autentica della mia vocazione. Mi trovavo, e tuttora mi trovo, con una maggiore disponibilità e capacità a stabilire relazioni interpersonali più vere, a mettermi di fronte alle situazioni con più capacità critica, a prendere le distanze per vedere meglio ciò che sta accadendo. Mi rimane molto cammino da fare, ma ho ricevuto un grandissimo aiuto. A cominciare da un desiderio nuovo di pregare, di dedicare più tempo alla preghiera oltre a quello comunitario. Rubare tempo al sonno per sperimentare il metodo di Marco, che Marco ci insegnava. Che non era una penitenza, e quindi mi ricollego al discorso degli altri. Non era una fatica l'alzarmi presto alla mattina perché durante il giorno poi non trovavo più il tempo. Ma era un desiderio, un appuntamento al quale non potevo mancare e che metteva in secondo piano tutto il resto. I risultati forse non si vedono, non si vedevano, ma non è più come prima. Non è più come prima. La presenza di Cristo diventava e diventa sempre più importante. Anche questa sembra un'affermazione fuori luogo. Cioè io che ho scelto la vita religiosa, dice come fai a dire che la presenza di Cristo diventa sempre più importante. L'hai scelto e invece è così. Diventa sempre più importante, più presente, sempre più cercata questa presenza e sempre più insostituibile. Questo grazie all'approfondimento e alla partecipazione a questi corsi. Anche le relazioni interpersonali hanno avuto un beneficio. Qui il lavoro è stato ed è ancora faticoso. Certi nodi sono ancora lì, però questo è il cammino che stiamo facendo. È stato un cammino che mi ha sconvolto, ma mi ha anche liberato da tanti attaccamenti, da paure. Mi ha fatto prendere coscienza di alcuni blocchi nascosti e profondi, nati con noi, portati dentro fin dalla nascita. Ce ne sono ancora, sono rimasti più difficili, i più difficili, ma il cammino è stato intrapreso. E una volta messo mano all'aratro, non ci si volta indietro, non si torna indietro. Ringrazio Marco che ha accolto il dono dello spirito, cioè la missione di aiutare fratelli e sorelle a iniziare o a sostenerli nel cammino di liberazione interiore, di rinnovamento, di darsi pace, di darsi gioia e di darsi speranza. Auguro a tutti coloro che continuano a partecipare ai gruppi e a coloro che inizieranno, glielo auguro, ma glielo posso anche confermare, che sicuramente troveranno energia, forza e coraggio per trasformarsi e trasformare. Grazie.